Oggi c'è tipo chi non c'ha la skin della vedova nera E' tipo il Giorgino della situation Anche se a me non mi sembra tanto una vedova nera E' vero? Vabbè No 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 a parte di scherzi A te ti sembrava una vedova nera A te ti sembrava una vedova nera Da un bordello non gioco con quel coglione Ho seduto sul divano Perché ma Passa tutto il tempo seduto qua Che potevo fare No no a me non mi va il Ma chi è Carluc? Uragano Cos'è l'uragano eh? Cos'è l'uragano? Hanno rotto il cazzo Hanno rotto il cazzo Chi è il Fortnite Italy? Vuoi io ci parli? Ma state live? Ah la prossima volta dillo eh La prossima volta dillo quando la chiudi eh mi raccomando Giusto Poi se dicevo dove abiti tu Anzi me lo dico proprio Allora iniziamo dal numero di telefono Il numero di telefono è Allora Pasco Levo l'audio eh Levo l'audio 391 No armà 141 06 E poi vi rimango col dissing No ci stanno Eh ci stanno tre numeri che mancano Bastardo Ah vabbè andiamo alla via di casa Ricambio con la fetta Ah ho capito perché sono aumentati i minuti Ma ma stanno in manutenzione Luca Capimmo Ah Ho capito perché sono aumentati i minuti Perché io sto giocando online quando sono ritardato nella mia vita Ma no ci fanno male ancora Hanno rotto il cazzo Hanno rotto il cazzo Ah scia fa si è aggiustata sta grafica della televisione Quando stanno 10 minuti Ho chiuso l'applicazione Niente di meno Ah ecco Due ore 21 minuti Bene va Ciova dove te ne vai A mare Eh Giacciova dove vai E chi se ne fotte Andiamo a mangiare Già faccio Eh vai a mangiare Vai a mangiare Perché? Eh no Perché tu sei Gianni l'attore Hai capito frate Luca scrivimi su whatsapp quando vanno Ok ciao Oh lo sapete che Basko è Giovanni Si chiama Gianni l'attore Prima di tutto non mi chiamare di cognome Gianni l'attore Beh beh vengo subito Ciao raga Ciao 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 Luca 20 a 10 Il contest per la vedova nera Quindi iscriviti al canale Nightman se vuoi partecipare Non me l'ho fatto bene Quindi Night iscriviti al canale Se vuoi partecipare al contest E poi se vuoi comunque contribuire A questo sogno che noi abbiamo Basta iscriversi Cosa che costa tanto Perché per voi è una perdita Come per molti altri però grazie Se lo farei grazie Si è iscritto Grazie bro Grazie mille Grazie mille bro Se vuoi anche su Telegram Se vuoi aggiornamenti su Fortnite in generale Oppure no Semplicemente no Quindi Quindi Luca quando vuoi tu Ovviamente Ovviamente In più Su Avengers Per esempio La nuova skin In ah un altro aspetta che io tengo la live contesti quanti euro sarebbe la skin di avengers quindi in totale 15 euro la vedova nera no però più piccone ci mettiamo pure nel piccone quindi automaticamente verrebbe di 20 22 euro se vuoi partecipare al contest basta iscriversi se vuoi partecipare ad altri contest abbiamo davvero si bro e se vuoi altre informazioni su fort intorno ai nostri aggiornamenti del canale e sui contest al nostro canale telegram yes quindi gabri se ci vuoi fare questo favore se vuoi contribuire a questo nostro tra parentesi sogno basta farlo poi a noi ogni 20 iscritti facciamo un contest quindi automaticamente questi contest poi vanno a tu non è che diciamo se non vinci un contest poi ti iscrivi perché poi con noi subito noi facciamo un altro dopo a 20 iscritti di distanza non è molto allora se mi dà la vedova nera è il piccone a un mio amico di 400 iscritti di sponsorizza guarda fra io ho un canale di 500 iscritti un altro xdark pd05 a me più che altro non mi interessano queste cose ma non per qualcosa perché vorrei crescere grazie ai miei grazie alle mie mani quindi se vuoi partecipare a questo contest basta iscriversi non ti costa niente cioè non è che se ti iscrivi paghi però alla fine ti costa una perdita di tempo lo so però se lo vuoi fare ci fai un favore enorme grazie allo stesso vabbè si ok non lo so ora ero non so se ero uno sfotto si mi iscrivo ah no ok grazie bro allora quello è l'accanto di Agrabble se vuoi quella è una cosa a parte perché noi me la mettiamo ogni aggiornamento su Fortnite per esempio noi abbiamo caricato delle nuove foto eccetera bella blu grazie per esserti iscritto vediamo se c'è qualcun altro in live ho messo l'acc bella afronide grazie gabri grazie allo stesso come fai ad estrarre poi dai il codice oppure lo regali con i regali di fort no 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 do il codice faccio la ricarica e do il codice afroide per diciamo partecipare vorrei avere io la skin della vedovana allora per partecipare basta iscriversi al canale e per avere aggiornamenti sull'estrazione l'estrazione si fa a caso è come mettere dei bigliettini in un bicchiere più che altro è quello lo scopo se ti iscrivi al canale poi quella di 4 persone live grande a 20 iscritti ma solo PS4 no no Beardman noi ti facciamo la ricarica i soldi li vuoi spendere anche in altre skin però diciamo che quello era il nostro pensiero cripto se vuoi partecipare basta iscriversi al canale e se volete aggiornamenti ogni 20 iscritti ci saranno un contesto quindi quindi non perdete le speranze non perdete la speranza perché se poi se perdete un contest ci sarà l'altro come ce ne sarà un altro come ce ne sarà un altro quindi ragazzi fatto grazie mille a Fronida e poi noi vediamo il contatore degli iscritti quindi per favore fatelo veramente non vi costa niente è un'iscrizione casuale più che altro non vi costa davvero niente poi se volete giocare con me fatecelo sapere come estrai eh te l'ho detto è casuale noi c'è un'applicazione che tu metti su diciamo su computer è il sito web che tu metti dei nomi e lì ti dà delle opzioni yes noi estraiamo faremo il video proprio nella live quindi non ci saranno trucchi ci sarà proprio il video in cui non lo facciamo quindi tranquilli faremo la live sul pc che vedrete quindi il codice inizia quando fai 20 iscritti si fra poco fra poco bro si è giusto partecipo pure io giuseppe se vuoi quanti soldi saranno 22 per l'esaltezza perché ci sarà la skin più il yes si potete fare però alla fine quello è una cosa esclusiva Marvel vi consigliamo quello perché noi siamo dei fanatici di Avengers quindi vi consigliamo davvero quello soprattutto che adesso questa skin esce ma non esce più io non me la posso prendere però perché io ho tutto tranne questo mi dispiace però non posso perché ho speso un bordello di soldi in questo tempo che era Avengers basta iscriversi al canale noi vedremo il contatore se ti sarai iscritto ma non c'è la ricarica da 22 euro c'è quella da 25 infatti ci facciamo quella da 25 e poi 22 euro si può fare poi tu almeno da quanto so io al GameStop si può fare io se vingo comprerò la vedova nera davvero fan bravo crypto si bravo no pure vabbè se allora ho fatto grazie è vero per favore non imbrogliate tanto abbiamo il contatore davanti quindi per favore facciamo tanto ho 20 iscritti poi non perdete la speranza non è che poi più perdete vi discrivete perché ogni 20 iscritti ci sarà un contest sono un dio fra sono un dio non vi iscritto crypto crypto è vero sei iscritto 13 iscritti bella vi siete iscritti tutti è vero grazie raga comunque lasciate un like se vi piace questa idea iscrivetevi al nostro canale telegram che il bot sta io mi sono iscritto ma le situazioni la fate a caso oppure scegliete voi no facciamo a caso ah un nuovo scusa stavo per dire l'ho già detto allora noi tramite Luca lo puoi spiegare tu un attimo che tu lo sai tramite quel sito ti vuoi dire gli algoritmi Luca il fatto del sito che ci sono gli algoritmi che lui ti mette mi dici è questo lo potete vedere che sono il nostro account Instagram telegram telegram si ecco bravo tutti a casa mia no Armando sei uno strato grazie mille siamo avete un bordato di iscritti non pensavamo che questa idea potesse alzarsi così tanto spero che l'idea vi piaccino lo possiamo minacciare o fammi la ricarica da 100 no 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 i soldi non ce li ho ma io i soldi non ce li ho sicuramente anche io compro la vedova nera come ero fan perché è un supereroe due tu mi sei già simpatico e tre bellissima grazie mille bro e se ti sto simpatico ti sta simpatico luca perché il canale di tutti e due è schierino comunque se volete ci sono un bordello di video nelle schede se li volete andare a vedere quella è un'altra cosa aggiuntiva telegram comunque lì troverete dei passaggi per farlo youtube bed diciamo qua guarda l'hosta e siamo qua oh oh youtube bed oh sei staciccio gamer in live su youtube ma ma quello non sta più su youtube mi sembra va a vedere uno si è iscritto a telegram sei un grande bro si luca puoi mettere il nightbot instagram alfavilla mi fa vedere lo shop bro vai sul nostro telegram perché su telegram lo vedi sinceramente qua non si può perché i server sono off porco putta pio and yuk pio trattino basso and trattino basso yuk trattino basso easy uno si è già iscritto al nostro telegram lasgarino piccolino lo scopo inti o senti bambina non voglio dire il cognome dai no 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 perchè mi sono arrivato bai dai io speriamo che questo canale adonno io ti prego ma che cosa ma che c'è da fare abbiamo fatto un contest della skin domani era perchè un dacati tu ma lo vedi che sei ciotto nella tua vita che sei ritardato stai zitto e se vinco io non ho i salami voi mettere su telegram se scendi un po' giù nei commenti non nei commenti nella chat pubblica ci sarà ci dovrebbe essere il nightbot che ha spammato si il che vedete all'accanto telegram e però per partecipare devi iscrivere al canale comunque telegram si ci sarà tutto e c'è scritto il nightbot ti ha scritto tutto più che altro è emozionante basta scorrere un po' che c'è da fare la chat minchia ma eminem ok grazie non ti preoccupavo ovviamente aspetta un attimo luca aspetta un attimo armand ovviamente armand sgara live fortuna di ritorno comunque volevo dirvi non perdete la speranza non vi disiscrivete dal canale poi se perdete perchè ogni 20 iscritti ci sarà un altro contest ogni 40 perchè ma lo facciamo a 20 però ogni 40 quando si sale di più ne faremo di più però che mi iscrivete su ista si se scorri un po' più in basso ah no gabri mo un mio amico mo luca sta mettendo il nightbot che lo scrive se aspetti due secondi mi serve sono ancora off che palle se lei vi è andata bene dai mi piace come è andata iscrivete su ista già iscritto grazie non imbrogliate perchè abbiamo il contatore davanti io me lo accendo quindi per favore tanto non vi costa niente è un'iscrizione mi aiutereste solo a realizzare quello che voglio fare 16 iscritti grazie mille si ok aspetta due secondi eh pio luca ma va a vedere su instagram p lettera grande mancano mancano 4 iscritti si bro e poi oggi pomeriggio tutti online ci sarà una live spammate i vostri amici mi raccomando ma gli estratti saranno iscritti o scrive in chat ma gli estratti saranno iscritti o chi iscrive in chat no solo gli iscritti noi possiamo vedere gli iscritti quindi noi andiamo dagli iscritti scriveremo tutti i nomi per questo ho detto non vi imbrogliate vi perdete una skin e poi non vi disiscrivete perchè se poi vi disiscrivete automaticamente l'altro algoritmo vi cancellerà per sempre quindi voi non sarete più oggi ho avuto già che ora estrae luca che ora viene a casa mia alle 5 oggi o domani comunque alle 5 però vi faccio sapere su telegram su instagram metterò una story voi andate a vedere ovviamente ve l'ho detto non vi disiscrivete perchè ci sarà sempre un'opportunità voi non perdete le speranze perchè via perchè sennò poi è diventare pure un po' da non lo voglio dire però un po' da bambini perchè non ne sei appena raggiungi 20 iscritti perchè sinceramente devo andare a fare la ricarica quindi oggi scendiamo alle 4 andiamo a fare la ricarica e poi muoio si ovviamente faremo la live su pc quindi avrete tutto niente niente di truccato tutto truccato tutto truccato mira tutto eh tutto scherziamo la mia skin preferita finora è sculli non la conosco sculli voi io non ce l'ho afforta nelle due settimane quindi cioè ora ho cominciato a giocare quando estrai oggi alle 5 se oggi non può venire Luca domani alle 5 non lo posso fare adesso perchè ve l'ho detto devo andare a fare la ricarica quindi cercare di spammare i vostri amici il più possibile perchè se non lo raggiungiamo oggi si sarà domani quindi se lo volete oggi fatelo oggi quella di san valentino ah quella è poco bella bro oh Luca Luca perchè è quando giochi va buio si ah ciao però io non riesco a vedere la live viene scritto il vincitore anche sul canale di telegram si beardman si lì ci sarà tutto e poi lì ci sono anche delle news si fammi vedere vedo manegra ti prego non c'è voglia di andare su telegram bro i server non vanno guarda i server sono in fronte di manutenzione posso riprovare davanti a voi non vanno e e sinceramente su telegram a questo punto aspetta un attimo se ti scucci ma canna faccio e se non fai un salto c'è c'hai 16 iscritti ci sono ma ho incominciato fammi vedere vedo manegra ti prego eh è frate iscriviti al canale ragazzi tra gli iscritti non manca niente praticamente manca solo la vostra volontà ma è bella la vedova nera ma è bella la vedova nera si bella skin poi ovviamente noi vi daremo i 15 euro i 20 euro vi diciamo vi consigliamo di prendere quella skin però potete spendere dove volete quella è una skin esclusiva io me la prenderei subito se fossimo io non posso però come posso vincere il contesto sei stronzo allora Armando devi iscriverti al canale non scrive chi è Armando ho anche piccone backpack del teleplano ha anche piccone si ha il piccone infatti prendiamo anche quello avrò un'idea ovviamente non perdete le speranze ogni 40 iscritti ci sarà un contesto quindi se non vincete oggi non vincete domani non vincete dopo domani ovviamente ci potete seguire anche solo per il fatto che ci seguite poi se non vincete vincete alla fine poi ci saranno anche stazioni più piccole per esempio i pacchetti 5 euro appena usciranno porco proviamo se qui c'è il nostro instagram yes ma è un pacchetto o è sullo shop shop non è un pacchetto per questo non viene di più quindi speriamo che apprezzate questo poi ve l'ho detto non perdete le speranze ci sarà sempre un'opportunità oppure se perdete sempre che siete bovo sfigati o vincerete perché quella sorte non c'è niente di deciso come si attiva il bot cerca su internet quanti V-Bucks sarebbero circa 2500 V-Bucks però non voglio dire stronzate Armando non spammare ti prego guarda che viene imbannato Armando ma viene imbannato automaticamente no 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 non c'è stiamo niente c'è il bot che dice stai scrivendo in chat si si armando si 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 eh ho capito posso essere il moderatore il moderatore non credo che ne facciamo perché siamo due a gestire i canali infatti Luca sei stronzo armando sei proprio stronzo bro ti continuo a seguire sono Luca dimmi se ti serve qualcosa ok Luca vabbè adesso punto vieni live Luca che se mai porno aspetta ascolto non ero io eh ti sei fatto scama su vado quanti anni hai allora io 15 e Luca 16 300 anni Goku io 15 e Luca 16 il moderatore non credo ne facciamo poi non sa più quanti anni hai 300 vedete al canale altrimenti Buddha è triste e fighissimo raga porco Buddha tutta la vita scrivete in chat a se che porco Buddha perché è la cosa più bella del mondo dio no perché dio è bello dio dio sfonda tutti raga è Buddha che strozzo adoro le skin femminili io adoro le femmine la fronda questa era bella no Armando Luca bannalo Luca bannalo sei un perverso madonna mia ma perché non ha detto niente non ha detto niente i server vanno no che non vanno sto for dai però Buddha è stronzo mi sono iscritto lg abbiamo il contenore iscritti abbiamo la faccia qua di chi si iscrive quindi per favore non imbrogliate io mo' vado a vedere se non lg ma ma sei tu lg Luca è Armando ma lg è Luca Giannattasio è Luke si ma io non in quel senso si ma io non in quel senso a dove scherf si ma io si ma io non in quel senso che cazzo vuol dire si ma ah cioè non in quel senso sporco ok Luca 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 Reggina quanti iscritti stiano no 0,111 periodico oh mi posso sponsorizzare no sia eh ma una volta sono una no anzi non scriverò di convoce e vabbè l'ha dovuto scrivere mi piace essere la parte debole della coppia what che vuol dire afronide cioè se una femmina cioè non abbiamo niente contro nessuno però vogliamo capire perché non ho capito cosa vuol dire mi piace essere la parte debole della coppia non c'è niente di male eh parte debole non c'è forse ho capito cosa vuol dire ma no ti ha messo Luca lo vedete questo contest beh è falsissimo è più falso di Luca Giannatasio va bene si si voi fatelo raga iscrivetevi al canale di nessuno vi ha scritto in chat iscrivetevi al canale di nessuno e Luca grazie se vuoi informazioni su fortemente sul nostro canale armati ti muto ti giuro su dio ti muto no 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 non credo fa una cosa ma io ti muto ti levo la voce in chat così puoi dire qualche cazzo che vuoi tu chi ha scritto vabbè è normale afronine cioè non credo che si poi oh chiaggiamo sto fatto perché se no poi mi danno il video del mi bandano il canale per omofobia ma perché ma che ha fatto armati 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 tu si tutto scello vabbè è normale afronide è normale poi ci sono persone che si vogliono sentire così e altre che non si vogliono sentire così per esempio quel che ha sicuro e altri che non vogliono vogliono sentire lei a proteggere qualcun altro capito allora Lisa io le conosco tante ragazzi è così oh aspetta mi chiamo Luca Lamidda mi chiamo Luca Lamidda aspettate a Sì, Afronide, alcuni vogliono sentire i protettori e altri, diciamo, quelli che vogliono essere protetti, non ce n'ete male. La vita... Eh, lo so, che cazzo devo dire? Che cosa devo dire? Allora, vuoi parlare? Stai zitto. Ok? Parli meglio così. Ma allora, lui ha detto così perché tu sei incominciato, perché l'ha detto, mi facciano un bordeo, gli schemi femminili, è stata colpa tua se hai iniziato questo discorso. Quindi devi stare solo zitto, devi stare solo zitto e piangere. Luca, ho il telefono scarico, si sta caricando, Dio santo. Cento messaggi, lesgherino piccolino. Ti devo parlare. Quindi, non c'è niente di male, è solo che... Luca! Sei tu, lc! Non mi prendi per il culo. Bro, chiamami. Minchia. Alalalalalala. Luca, sei tu, ti prego, basta, ti prego. Come ho fatto a vivere senza... Luca, sei tu! Non mi rompo il cazzo! Minchia. Ebbè, è bellissimo il nickname di Luca. Luca, se ti iscrivi al canale così, così, non vale, è inutile che non mi fai spendere i soldi. Luca, è inutile che scrivi contemporaneamente, basta avere due dispositivi accesi. Giura, su Dio non vale se incroci niente, Luca, giura. Scrivi Luke, scrivi giuro. Su Dio non vale se incroci niente, giura. Giura, Luca. No, no, non è Luca, no. Giura, Luca, no? Come, non giuri? Ha scritto... Alalalala, giuro. Quindi praticamente è Luca perché voleva scrivere con l'altro account. Ma sei scemo. Luca, non spammare in chat! Armami controlli un attimo la chat. Io, Luca! Ciao! Si mette a pigliarmi per il culo, io! Giura, giura, giura non vale se incroci niente, non vale se incroci niente. Giura, non vale se incroci niente. Aspetta però, giura, non vale se incroci niente che quelli non sono tu account, giura. Sì, è una speranza di te che ho incroci niente su Dio, eh? no aspetta non sono tu accanto del telefono perché tu li puoi avere anche tu non conosci i tuoi nomi giuro ok ci avrò oh lu eccomi fumo galli vabbè raga iscrivetevi al canale che ha 20 iscritti io luca agnelli luca 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 tanto ti ho mutato no 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 ragazzi io non banno nessuno il bot banno quindi non ve la prendete con me eh il bot banno perché se scrivete 15 messaggi in se scrivete 15 messaggi armando ti ha mutato uu 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 scrivete 15 messaggi mi posso scrivere anche col mio account secondario e luca ma lo so perché mi sta prendendo per culo vabbè vabbè si mi prende per culo ma perché mi ha da pigliato il mio culo è il quinto quello di luca puoi iscriverti puoi iscriverti con quattro accanto uu uu ragazzi spammate così tanto il bot vi banna state attenti e so due il bot vi banna automaticamente ciuccia luca ok grazie comunque non sono luca il tuo amico sono luca l'ho presa oh fra fra non spammare non spammare la 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 ok ecco chi ha ballato il bot la 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 sicuro perché non ha scritto più sicuro non ho scritto più vai a prendere il computer stai piangendo piccolino passate dalla live di armando nessuno si chiama lol su camelo quale live la tua quale live la tua ah madonna luca immortale nessuno mi banna oddio non ti stiamo bannando la 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 è il bot che banna automaticamente se se non ti ha bannato sinceramente non lo so ma meglio così quanto manca 20 anni proviamo dai proviamo armate va vediamo a me niente i server non rispondono yes ok 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 Grazie. 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 Scusa, se ti cambio il costume avrò qualche potenziamento Ehm, in realtà no Scusa, perché dovrei spendere dei soldi allora? Beh, fa chico avere una schimicra parola Ah, ok Ah no, scusate, c'è un piccolo problema Di quale sarebbe? Sono povero Va beh, dai, per stavolta lasciamo stare Ottimo, addio allora, eh Ma cosa faccio, singolo? Sì, sì, per carità, non coinvolgiamo altri nelle nostre tragedie Ok, allora giochiamo Allora, gioca come se niente fosse Voglio capire bene come si muove Perfetto, vai tranquillo Forza, scegli di dove scendere e cominciamo Attimo, entrò nel mio luogo preferito Ecco, mi raccomando però, non bruciarti subito Dovevo resta andare? C'è un posto che mi piace un sacco Si trova una maria di armi Ah, bene, bene, cioè Mi sembra che si chiami Tintacoli Pazzini Mai sentita? Ah, dobbè Ma come, non lo vedi? Vieni in mezzo alla mostra Aspetta, intendi Tintacoli Pendenti Sì, sì, giusto, buonissimo Andiamo Dove non cedere? Praticamente se mi ha detto Adio e poi apparito Grazie, però iscriviti al canale Armando Iscriviti al canale Franco e King Se vuoi seguici su Telegram Franco e King non disiscriviti dal canale Quando, per esempio, se non uscirai nel contest Ma, comunque C'è una probabilità Avete tutta la stessa probabilità La live sarà oggi Sono rimasta solo io Allora Iscriviti a Seguici su Telegram Che su Telegram Troverò un bordello di informazioni su Fortnite Forse non le trovi da nessun'altra parte E iscriviti anche su Per esempio Che posso dire Se vuoi seguici Questo riguarda solo il nostro canale in particolare E se vuoi informazioni sul contest Anche su Instagram Grazie, bro Vediamo quanti iscritti stiamo 20 Ci abbiamo fatto Ne chiamo su Telegram C'è una qualche sfida anche su Telegram Avanziamo anche un po' più Sei iscritti Yes Iscritti Vediamo 2,50 Iniziamo il contest Stiamo a 20 iscritti Giuseppe Non lo posso fare Ma oggi ci sarà una live Su questo Interamente su questo Perché andiamo a fare la ricarica Di Luca insieme Oggi Ma farete il video del contest Su Telegram Si sono tutti e tre Alle 5 di oggi poveriggio Precise Staccate Perché fra poco 17 minuti siamo insieme E rimaniamo fino a luna E poi stacco Perché fortemente non va E io Sono stanco Sono molto stanco Ma tanto Ma proprio tanto Poi si gioca Neanche funziona No Il telefono Scarico Quindi non posso neanche Cazzeggiare col telefono Devo stare qua A non fare la sega 5 spaccate Luca Poi devo chiedere a mia mamma Se oggi Cioè devo chiedere a mia mamma Se Luca può venire Perché poi non lo so Se devo uscire Certamente non lo so Però oggi O domani Sicuro Credo più oggi C'è bene Allora C'è bene C'è bene C'è bene C'è bene C'è bene Grazie Franco The King Franco il King C'è bene 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 Bello Franco Stacco la live Mi sono otto i coglioni Mi raccomando Iscrivetevi al canale Questa è la Diciamo Siamo stati in live Aspettate questo aggiornamento Questo aggiornamento Non è venuto Purtroppo Ma lo aspetteremo Alle 3 ci sarà una live Alle 5 Un'altra Dove estrarremo I vincitori Per sicurezza Arriviamo a 25 iscritti Ovviamente Se scendiamo di iscritti Quando Diciamo Isserremo il nome Non faremo più il contest Perché Noi vogliamo iscritti Che Vogliono partecipare a questa cosa Ma vogliono anche Seguirci Perché se volete I soldi Ci dispiace anche un po' C'è Più o meno è questo Quello che vogliamo fare noi Però Avengers Infinity War Si annullerà tutto Se non Se comunque I ragazzi Si disiscrivono Quindi vi consigliamo Di non disiscrivere Perché Ci sarà sempre Una portabilità Si direi anche Se non avevo prima Faremo una live Dove saliamo il fortunato E poi andremo a comprare La ricarica La avvieremo Al vincitore Yes Poi Incominceremo La live Alle 3 Ci sposteremo Su pc E su pc Ci sarà Tutto La live Quindi vi consigliamo Di Dicere un bel like Iscrivervi al canale E si fa così Bella raga Mi basta iscriversi al canale Lo ripeto Se vuoi dire Tutti la mamma Per informazioni Sia sul canale Sia E non Perché anche Fortnite Lasciate like Se vuoi dire su Instagram Quella è un'altra cosa Parliamo solo Del nostro canale In questo momento Io vi dici su Instagram Se vuoi dire informazioni Lasciate un bel like L'ho detto altre 20 volte Bella raga Alle 5 Tutti connessi Swipe up Bebe